Buon appetito! 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 ecco un tiro e il portiere la blocca che palla meravigliosa solo un minuto di recupero Gunnarsson Hugh Barry stanno spingendosi in avanti adesso per rimanere in partita hanno bisogno di un'invenzione dei loro bomber pessima entrata concessa una punizione ha preso in pieno l'avversario qui è punizione la mette in mezzo il fischio dell'arbitro conclude la partita hanno conquistato la vittoria dopo aver giocato una partita impeccabile prestazione davvero superlativa inizia a inizia a inizia a inizia a inizia a Grazie per la visione! Grazie per la visione! Due grandi squadre di fronte oggi per conquistare l'accesso alla finale. Chi avrà la meglio? L'arbitro ha fischiato l'inizio. Speriamo che la partita rispetti le attese. Tutti conoscono le sue grandi doti del cross. La difesa ha fatto bene fino a questo momento. Stanno difendendo bene, molto bene a dire il vero. Gurkuf. Pazzini. Sfrutta bene il varco. Scocca il tiro. Se crossa bene, potremmo vedere il primo gol. Grande recupero. Atacco annullato. Il portiere ha fatto due passi in avanti e ha afferrato il pallone tra le braccia. Cerca spazio oltre la linea difensiva. Un intervento tutt'altro che ha cercato. Punizione. La messa a centro area. Ha dato una posizione molto interessante. È in ottima posizione. La palla è fuori. Rimessa dal fondo. Gjaric. Ancora con la palla qui. Pazzini. Buona mossa. Tenta dalla distanza. 15 minuti al fischio finale della prima frazione. Ha lavorato benissimo con la palla. In nessun modo avrebbe potuto colpire il pallone. Concessa una punizione. La difesa sta andando alla grande. La palla è ancora in gioco. Palla al portiere. Sposta il gioco dall'altra parte del campo. Adesso la palla è in suo possesso. Sono in posizione favorevole. Completamente fuori tempo con questo intervento. Regalo una punizione. Ammunizione. Nessuna vera sorpresa. Devo dire che sono d'accordo con l'applico. Il difensore non ha nemmeno sfiorato la palla. Per cui penso non si possa lamentare. E l'occasione si risolve in un nulla di fatto. Lancio filtrante al centro. Palla fortissima. Gol! Incredibile! Proprio allo scadere. A pochi secondi dalla fine del primo tempo sono riusciti a ottenere il vantaggio. Sono certo che dovrà ringraziare. Hanno ottenuto il vantaggio. Uno a zero. A un paio. L'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti. Le due squadre entrano negli spogliatei. Fino ad ora abbiamo visto un buon calcio. La speranza è che anche nel secondo tempo ci sia la stessa intensità di gioco. Stanno mostrando una chiara superiorità. E fino a questo momento hanno letteralmente dominato l'avversario. Come l'andata. Sono nettamente favoriti per la vittoria. Inizia il secondo tempo. Gli allenatori hanno avuto l'intervallo a disposizione per parlare con i giocatori. Vedremo se cambierà qualcosa nella ripresa. Filippo Inzaghi. Non ha trovato la palla qui. Calcio di punizione. Sperano di causare parecchi problemi con questo calcio di punizione. L'ha fermato molto bene. Adesso sono in possesso palla. Ben difesa qui. E adesso il gioco si spinge in avanti. Uno contro uno. Adesso è nell'area di rigore. Oh no! Colpisce la traversa. E' stato sfortunato nella conclusione. Ma si era portato al tiro liberandoci perfettamente dai difensori. Per Gilardino. Riuscirà a creare un pericolo qui. La respinta del portiere manda la palla sul fondo per un calcio d'angolo. Sta viaggiando di fronte la linea di porta. Hanno evitato il pericolo. Ma hanno concesso un falo laterale. Adesso ha una possibilità di consare. Conceglie una punizione in una zona molto pericolosa. Eccolo! Il portiere respinge. Passaggio maldestro. Pampersi. Angierina su. Pescato in fuorigioco qui. Segnalazione perfetta dell'assistente. Improvvisa Shansqui. Prova un compagno. La colpisce con violenza. Ed è dentro. Stanno dimostrando di essere spiutati in attacco. Stanno mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Ogni qualvolta si presentano in avanti. Tava aspettando. 2-0. Un vantaggio rassicurante. Che prestazione. Che squadra. E che attacco. Hanno letteralmente messo a ferro e fuoco la difesa avversaria. Chi può fermarli? Direi nessuno se giocano sempre come oggi. Grande recupero. Attacco annullato. Bruto intervento e punizione in una zona molto pericolosa. Ci proverà. Gattuso. Ci sono i presupposti per un attacco. Può fare qualche passo in avanti qui? Arriva il cross. Ecco il triplice fischio. È stata una vittoria più psicologica che altro. Hanno dimostrato di essere scesi in campo semplicemente... e quindi sul staccato. Ogni time. I'evilità partecipare. Er讓 dici Suc grinatiati. Suc ridi Suc ridi Sì Grazie a tutti.